No, mi raccomando, ricordati che quando poi vai sotto, entra l'acqua nel microfono e qui... Credo? Non ho capito, entra l'acqua nel microfono... Nel micro... Detto... Ok... Succede... Anche... Sata... Va bene... Ia... Ia... Mo... Amici di Wigitalia, oggi vi portiamo in Puglia... In Puglia... In Puglia... Siamo in località, Lama le Canne e di Gironpi a noi c'è l'isola di Porto Nuovo... Diabolo... Diabolo... Cor因为 in Puglia... Corria... Episodio... Cosa... la stada è chiusa non devi andare vai è un prefuso siano sbagliati stada in effetti perché no spesso con qualsiasi cosa verde vuoi farlo? sì di insalata spesso di insalata di lattuga siamo a peschici in località Manacora e adesso andiamo a fare un bagnetto dove stiamo andando? alla caverna che sta qui dietro e poi a visitare anche l'isolotto l'isolotto l'a senti come si chiamano queste strutture per pescare? trabucchi questo è un trabucco me lo ricordo anch'io il famoso trabucco dono sorda finisce qui questa puntata di wikitalia salutiamo eleonora mario e linda ciao Ciao!